nel brano del vangelo di oggi caifa diventa profeta annunciando che gesù morirà non solo per il popolo di israele ma per tutta l'umanità è qui che comincia la strada verso il calvario gesù intanto si ritira nella città di efraim e si prepara per i giorni della sua passione d'amore per tutti noi nonostante il rifiuto dei capi del popolo del sinedrio gesù decide di dare la vita anche per loro questo fatto ci dice che non importa quanto sbagliamo quante siano le nostre fragilità cristo dà la vita per ciascuno di noi prepariamoci anche noi insieme a gesù per entrare nella settimana santa della sua passione e morte in croce accompagniamolo sulle vie di gerusalemme verso il calvario stiamo gli vicini per poterlo consolare nei momenti difficili ringraziamolo per tutto quello che fa per noi e non dimentichiamoci che dopo la morte segue il grande evento della risurrezione cosa suscita in te il rifiuto degli altri sei pronto ad amare anche chi ti antipatico ringrazio il signore per il dono della redenzione